La serata di ammutinamento con l'onorevole Sgarbi nel suo locale di Fano a Umberto Carriera è costata cara 400 euro di multa, una denuncia penale in base all'articolo 650 del codice, 5 giorni di chiusura del locale 280 euro di sanzioni anche ai clienti sostenitori presenti per mancanza di dispositivi di protezione e violazioni del DPCM Una seratina non proprio in relax quindi con una decina di agenti fuori dalla porta tra carabinieri della compagnia di Fano sul posto con due radiomobili e polizia locale che hanno identificato all'uscita le 15 persone presenti all'interno del locale ad attenderli anche il sindaco Seri La legge è uguale per tutti, la doveva essere a meggiore ragione poi se alcuni hanno delle responsabilità perché si darebbe un pessimo esempio, è quello che abbiamo voluto dire e trasmettere in quelle ore ma anche con i provvedimenti successivi conseguenti lo hanno dimostrato Il Masaniello di Casanostra porta avanti la sua disobbedienza civile ai DPCM al grido di sopravvivenza per non morire di fame ma che non incontra la totalità dei consensi anche tra i suoi colleghi che invece le regole le rispettano e le osservano e che non hanno mancato in questa serata di lampeggianti, divise e bollicine di far sentire la loro voce